io ho una teoria ok ogni volta che Mark Zuckerberg il proprietario di facebook per capirci vede un'applicazione che gli piace la compra cioè così probabilmente lui ha un team a cui si rivolge e dice oh ho visto questa applicazione stamattina venendo in ufficio oh compratemela cioè è uscita questa applicazione qualche tempo fa che si chiama msqrd che si sta per masquerade che è quello la con la faccia tutti fanno di cavo di qua di là l'ha comprata e quindi oggi voglio gioca- oh mio dio voglio giocarci anch'io più o meno oh ca- so kawaiiii ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo su masquerade è una figata questa cosa e dai è una figata e poi con la tela positivo avete infiniti screen per fare i meme infiniti davvero ma si muove anche quando mi muovo così il bello è che io metterò la schermata di maschere da una parte e dall'altra parte la schermata della webcam normale quindi io sembrò un coglione deficiente da questa parte e invece un figo da paura di là vero? eeeh c'è anche di capo ahahahahah 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 e che cos'è? oh mio dio non sembro mai di capo nella vita fammi levare gli occhiali mmm già meglio no con gli occhiali mmm e beh almeno c'ho le statuette così una posso dare finalmente all'orso guardalo quando guarda quando fa l'occhiolino ahahahahah ahahahahah eh questa applicazione è demoniaca ho vinto un oscar sono troppo forte a recitare l'oscar me lo meritavo per tutti i film che ho fatto oh dio sono snoop dog smoke weed everyday smoke weed everyday gli occhiali sono anche simili cioè più o meno ci sta ci sta ho sempre sognato di essere nero io bro oh mio dio io vengo dal ghetto iooooooo oh mio dio ah c'ho il cappellino ma è stato world of tanks la sua ma è pubblicità bestia questa mi sta andando in cancrena al braccio sinistro quindi passerò al destro oddio joker why so serious why so serious perchè sei così serio perchè sei così serio perchè sei così serio bello che io sono consapevole del fatto che qui sembro un coglione e qui anche ma lo faccio lo stesso lo faccio lo stesso che problemi ho? tanti tanti soprattutto se ti trucchi così Batman senza di me sarebbe stata una palla assurda e lo sai jimmy kim and live sembro non lo so uno di quegli americani grassi che vive tipo in un camper da qualche parte cazzo che figata oddio ho sempre sognato di essere così bello è bellissimo fiorellino? fiorellino andiamo avanti ah qua è avrò la mia vendetta e questa vita no quello era il gladiatore quello era il gladiatore vi per vendetta non mi ricordo neanche una frase del film le idee sono a prova di proiettile perchè lo sto facendo con questa voce non lo so perchè sto usando andiamo avanti strizzate gli occhi non funziona oh strizzate gli occhi sto alzando le sopracciglia funziona lo stesso super mega cuoricioni per tutti a a a fego chi sta? oddio cos'è questo? è Obama? nooo yes we can we can yes we can yes yes we can you know it I know it yes we can nooo 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 sono un panda dovrei essere un panda figo toma più o meno cos'è? ah harry potter harry potter vabbè gli occhiali già ce li ho impazzisci impazzisce andiamo avanti mi ha fatto gli occhi più grandi ma io ho già gli occhi giganti non puoi farmi queste cose oh mio dio apri la bo cosa aaaah eeeh 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 dai un bacio c'èo minchia ho le minchia ho proprio le parte ci sta passiamo oltre aah eeeh 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 che bei baffoni che ho lo sporlo sermanov sono inquietantissimo non ce è solo un messicano conll'apparecchio è quella cosa ancora più sconvolgente Evolgente davvero davvero ma passiamo oltre perché c'ho la barba Questo come si chiama questa non so se questo questo cosa è successo è con cita Robert downy junior grande zio Grande Siamo un playboy miliardario Filantropo e gli piace la figa sei un mito cazzo arome e ora sono un cucciolo di cane davvero Complimenti qui sono una tigre Egnè gne 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 ai miei tempi Ai miei tempi ai miei tempi non c'erano queste cazzate Ai miei tempi si andava solamente a figa Renzi si deve dimettere i cantieri cantieri gli operai devo andare a guardare i cantieri a e come ci sono io tipo tra 60 anni Speriamo che abbia anche cambiato occhiali e non hai cambiato un cazzo praticamente c'ho solo più rughe Questo è il figo ci sta La Siamo oltre Ecco sono… questi b Shang Absolutely La bella maschera per il viso così si e tutti i brufoli vanno via. Qua sono me versione donna vecchia Okay David Bowie giusto qui sono un tipo un teschio Non sono più famoso come tutti youtuber tra 5 barra 10 anni guarda solo si the sims Questo quella che c'era tipo quando faceva il wrestling la wwe quella che mangiava i vermi ma non faceva schifissimo Questo è un po' metallaro a bestia Un mimo dovrebbe essere un mimo beh in effetti ci può stare ma perché il disegnato non lo capisco Ma c'è nessuno c'è solo un altro Ragazzi per questo video è tutto e mi piace tantissimo per la visione Vi ricordo lasciare un mi piace se vi è piaciuto questo video di iscrivervi al canale che lo avete fatto su kawaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Io vi saluto ciao saluto a tutti Fa troppo ridere questo Guzzajiii aliveeeeieiii vi prof not il